Oggi esce il bando dalla Vigna alla Tavola che è in una seconda edizione. L'anno scorso sono stati superati i 350 eventi realizzati proprio sull'onda dell'enoturismo. Io credo che questo ci fa capire quanto la nostra regione e la produzione vitivinicola sia matura per essere attrattiva e per rappresentare un tipo di turismo esperienziale che si può venire a fare nelle marche, cioè venire a visitare, a scoprire, a degustare prodotti enogastronomici ma soprattutto del vino eccellente. Sta a noi il coordinamento e la promozione di questa capacità produttiva facendo in modo che le cantine si trasformino in luoghi di accoglienza turistica. Per fare questo è necessario ancora aumentare la consapevolezza e la collaborazione tra i ristoranti, gli alberghi, i campeggi, le enoteche e chi produce vino. E anche le agenzie di comunicazione ma soprattutto quelle di operatori turistici. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo rifatto questo bando che ha alla base un appartenariato tra imprenditori di produzione, quindi cantine, operatori enoturistici, per la prima volta si parla dei produttori perché è stato inserito in una nuova legge e poi soprattutto molto importante è la capacità di fare anche comunicazione. Abbiamo messo un budget a disposizione di comunicazione in modo che si parli delle marche. E infine la differenza rispetto allo scorso anno è che si possono utilizzare in questi eventi le birre artigianali prodotte ovviamente nelle marche e soprattutto si possono utilizzare soltanto prodotti di qualità enogastronomica certificata delle marche in modo che diventino dei momenti veramente di orgoglio, di promozione e di conoscenza della cultura. In questo chiederemo aiuto anche alle associazioni culturali come Slow Food, come l'Accademia Italiana della Cucina, come l'Associazione Sommelier. Deve diventare l'embrione di un progetto più ampio che noi presenteremo a ottobre e che la regione sta mettendo in campo per l'enoturismo. A settembre presenteremo il portale dell'enoturismo regionale che vedrà la valorizzazione dell'intero sistema attraverso la presenza soprattutto delle cantine, degli operatori di settore e anche di tutti i prodotti di qualità del territorio. Io credo che la filosofia di fondo di questo portale sia quella di, da un lato, di avere tutti i soggetti che saranno chiamati in gioco la consapevolezza della forza di questo territorio e dall'altro l'esigenza dello stare insieme. Quindi la funzione della interazione tra tutti questi, tra gli operatori, il territorio e l'offerta turistica generale credo che sarà l'elemento centrale della crescita e dello sviluppo dell'enoturismo nelle marche che sicuramente è uno degli aspetti fondanti della prospettiva dell'offerta turistica delle marche. Il vero chilometro zero del mondo agricolo è il mondo della ristorazione, cioè fare in modo che i prodotti delle nostre aziende che hanno fatto dei passi da gigante in questi anni in termini di qualità oltre che di quantità possono essere esitati nel mondo della ristorazione. L'edizione 2021 è stata molto importante. Noi abbiamo presentato come associazione ristoratori due progetti, complessivamente 35 ristoranti che avevano partecipato a questa iniziativa. Quella cioè di valorizzare il mondo delle produzioni locali, delle produzioni tipiche, non solo dei vini ma anche dei prodotti di OP oppure dei prodotti di slow food o comunque dei prodotti tipici regionali attraverso il mondo della ristorazione. È stato un successo notevole, tantissimi turisti che hanno partecipato a queste serate ma tantissimi marchigiani che hanno approfittato di questo bando dalla vigna alla tavola per conoscere i piatti e i prodotti realizzati dai nostri ristoranti.